oh no 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 volevamo dei bastoncini di zucchero non oggi voi ragazzi mi causate sempre un mucchio di problemi e quando è successo mi fate venire gli incubi tutte le notti mi avete dato dello zucchero mi avete fatto attaccare da una bambola e non molto tempo fa avete gettato sul negozio un sacco di sangue che ho dovuto pulire per tutto il giorno kevin era sangue finto finto no voi ragazzi mi causate sempre un sacco di problemi parli del diavolo e spuntano le corna ragazzi perché mi segue non lo sappiamo ci sta sono inseguendo che vuoi anche lui bastoncini mi licenzio cosa no aspetta torna indietro che vi tutto bene sul retro ragazzi si Grazie a tutti.